A Messina ieri pomeriggio sono scesi in piazza i lavoratori dello spettacolo. Da un anno sono fermi e chiedono la possibilità di ripartire. Per loro è stata la festa del non lavoro. Sono i lavoratori dello spettacolo, le guide turistiche, gestori di cinema, discoteche, locali e lidi. Show must go on. Era lo striscione che faceva bella mostra di sé ieri pomeriggio in piazza municipale a Messina dove hanno voluto gridare la loro rabbia e la loro disperazione. Musicisti, dj, vocalist, attori, cantanti, costumisti, aziende che si occupano di service e allestimenti. Nel mondo dello spettacolo un centinaio le persone nel rispetto della normativa covid presenti alla manifestazione. C'erano un po' tutti. Loro che si definiscano lavoratori senza colpe e senza prospettive che improvvisamente sono rimasti senza occupazione a causa della sospensione in tutta Italia delle manifestazioni, degli eventi e delle produzioni per l'emergenza coronavirus. In Sicilia, come nel resto del paese, sono state migliaia i lavoratori in quest'ultimo anno che non hanno potuto lavorare. Molti sono stati esclusi anche dai bonus. A dare forza a loro allarme anche il messaggio del sindaco Cateno De Luga e l'augurio del consigliere d'amministrazione del Teatro Massimo di Palermo, Luciano Fiorino, trasmessi nel maxischermo montato in piazza. Un settore, quello degli eventi, che rischia di perdere un'altra stagione con lavoratori ed imprese messi in ginocchio dal fermo degli spettacoli.